Paletto dei duecento prima dello stacco, allineamento che va quasi a completarsi. Arretrato il Revelle Bar, imitrato da Parideni, via la macchina in velocità. C'è lotta la chiusura con all'argo di tutti Hortensia Gual nei confronti di Olonokei, freeway per la Gual di Roberto Vecchione, che scende lungo i birilli. Si completa il lancio in 13.2. Sposta prontamente e Olonokei viene a chiedere strada all'Hortensia Gual per anticipare Right Story. Poi Nives Vielle, passa l'ex derby winner, 29 a un battito, l'Olona al comando. E davanti alle tribune sposta Odride Veltri, che punta in avanti. Si va al completamento dei seicento iniziali, passati in 43.7. Olona, Hortensia, Odride Veltri, Nives Vielle, poi Parideni. Cavalli ha il completamento del Mezzomiglio. Mezzomiglio è iniziale, nell'ordine del 59.5 per l'ok di Minucci. E Odride Veltri, sostenuta, va all'argo di Hortensia Gual. Cavalli ha la chiusura del chilometro, passato in 1.13.4.13.9 di frazione. Andatura brillante, da parte di Olona, che allunga e si distende e prende 1.5 di margine. Notevole frazione in 13.8.1.27.2.3.4 di miglio. Olona al comando. Poi Hortensia, che è l'ertica con Uri, si prepara Parideni. Retta d'arrivo, Olona ok è al comando. Viene via Parideni a largo di tutti. Olona leader, Parideni va sulle prime. Allunga Olone, mantiene il comando. Olona ok, 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 Olone. Mentre Parideni ha la grande. E' seconda. Terzo, Odride Veltri. Signori, rivista la derby winner Olone che in una giornata di grazia, in una giornata come duopo, ha una vincitrice di derby. 1.55.9, 1.12.4, con un minucci già al doppio nel pomeriggio, gratificata da questo Olona 4.84 in chiusura. Vi avevo detto, la cavalla era Parideni, ha corso l'altro giorno e un po' di tempo fa un po' nascosta. Oggi ha dato la sua misura. Odride Veltri fa una grande corsa, ma raccoglie solo...